Voce profetica in un tempo segnato da povertà, guerra e demarginazione. A questo è chiamata la Chiesa italiana, lo chiedono i Vescovi al termine della 79esima Assemblea Generale. In un paese attraversato da diseguaglianze e questioni sociali connesse, si fa più forte il richiamo alla legalità e il no alle mafie, tema che riguarda tutte le Chiese in Italia, non soltanto il Sud. Il voto di giugno alle europee come occasione di partecipazione alla vita politica. Tante persone non si sentono rappresentate o percepiscono come qualcosa di distante, lontano, per il quale io non posso fare niente, che non sento mio. Invece l'Europa è la grande eredità che ci è stata lasciata. Sulle riforme costituzionali, attesa per domani la pubblicazione di una nota molto chiara, preannuncia il Cardinale, da parte del Consiglio Permanente CEI. Sulle autonomie differenziate, mentre sul premierato il porporato spiega. Toccando gli equilibri istituzionali vanno toccati sempre tutti con molta attenzione. Poi aggiunge. Ci richiede a maggior ragione uno spirito davvero unitario, cioè pensarsi insieme. Noi abbiamo ripetuto tante volte la grande capacità dei padri costituenti, che avevano forse molto più di noi adesso una idealità accentuata, forte, con fortissime identità, che hanno saputo trovare quello che ci univa. Grande interesse ha suscitato nell'Episcopato la riflessione sul rapporto con la cultura, spazio da rilanciare in cui far dialogare in modo critico stili di vita e pensiero dominante con la rivelazione cristiana. Sul fronte ecclesiale due le assemblee sinodali già fissate, una a metà novembre 2024, l'altra ad aprile 2025. Durante l'anno del giubileo un fondo di microcredito, per chi non ce la fa ad accedere ai finanziamenti erogabili fino a 8.000 euro. Rivoluzione in materia di tutela dei minori, votato e modificato il regolamento per cui il presidente del Servizio Nazionale doveva necessariamente essere un vescovo, così alla guida ora arriva una donna, la psicologa Chiara Greffini. Infine la grande sfida della pace, dai vescovi l'esortazione a lavorare senza reticenze per costruirla con prassi concrete, come ad esempio la scelta di non investire in chi finanzia, produce o commercio in armi. Dal 13 al 16 giugno il Cardinale, pellegrino in Medio Oriente, questo il senso del viaggio. Di manifestare la vicinanza, la solidarietà nel dolore, la sofferenza che è terribile per tutti e di pregare per la pace, perché termini la violenza, perché si possa trovare la capacità di vivere insieme.